Grazie a tutti. Buonasera, sono Stefano De Marchi, sono il candidato sindaco per Cavallino a Trapporti. La cosa ci faccio qui stasera è perché mi sono candidato. Mi sono candidato perché non ci fidiamo più di questa politica. Non ci fidiamo più di questa gente che crede di fare politica e crede che sia un lavoro a tempo indeterminato per fare carriera. La politica secondo noi deve essere un servizio civico che diamo. Questo deve essere un punto di partenza. Noi non ci fidiamo più di questa gente perché porta dentro ai comuni le lobby. Si nasconde dietro liste civiche, invece sono dei partiti. Non hanno neanche il coraggio di farsi vedere per quello che sono. Basta, noi non ci crediamo più a questa politica. Vogliamo poter cambiare. Vogliamo poter decidere. Vogliamo poter decidere del nostro comune, partecipare. Invece ci lasciano lì in un angolo. Quando ci sono le votazioni, vengono a casa vostra, vi bussano la porta. Signora, di cosa hai bisogno? Voglio un voto di scambio. No? Non è vero. Invece noi abbiamo bisogno di tutt'altro, non abbiamo bisogno di piccole cose. Abbiamo bisogno di informazioni come spendono i nostri soldi. Abbiamo bisogno di trasparenza. Come? Dove li mettono? A chi li danno? Abbiamo bisogno di partecipazione. Dobbiamo tornare ad essere sovrani nei nostri comuni. E non sudditi come siamo adesso. Basta. Questo noi porteremo anche a Cavallino Treporti, questa metodologia. Partiamo da noi. Io sono una persona normalissima come voi, genuina. Non ho mai fatto politica. Dobbiamo ripartire da qua. Dobbiamo ripartire dai bandi pubblici. I bandi pubblici permettono trasparenza. Noi faremo, se avremo la fortuna di prenderci Cavallino Treporti, noi faremo per gli assessorati un bando pubblico. Meritocrazia. La gente brava del nostro comune deve essere partecipe. Concludo dicendo che, insomma, io ho un sogno per Cavallino Treporti. Con poche parole di comunità, di trasparenza, di sostenibilità, di partecipazione. Questo è un sogno che dobbiamo portare in tutti i comuni d'Italia. Dobbiamo ripartire da noi e questo sogno si chiama Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie a Stefano De Marti, candidato sindaco e Movimento 5 Stelle per il comune di Cavallino Treporti. Ci tengo a dirlo. È la prima volta che parlo in pubblico. È molto emozionato per quello. È un cittadino normale. È quella la cosa. Il valore aggiunto è quello. Non prendetelo come un difetto di comunicazione. È l'emozione di parlare davanti a cittadini come voi. Quindi io adesso ho il piacere, sono in tanti, di farvi conoscere quelli che sono i nostri candidati al regionale o anche i luoghi dove vengono. Federico Bonollo, Cavallino Jesolo, Sonia Xausa, c'è Alessandra Balocchi, c'è Enrica Akeldi, Enrico Chiuso.